Marco, oggi sei venuto qui al Gaslini, hai detto a tutti i bimbi, volere è potere. Quella è una legge, deve essere una legge, un concetto che deve entrare nella testa di tutti quanti, perché quando si vuole veramente le cose si possono superare delle barriere, oggi magari dove si pensa che siano impossibili da superare, in realtà non esiste muro che non si possa abbattere. Come si supera la paura da solo, in mezzo al mare, solo col tuo amico Matle? In realtà non ci si pensa nemmeno, si parte la mattina come in qualsiasi giornata, c'è chi alla mattina parte per andare al lavoro, in ufficio, in fabbrica, io parto probabilmente in un ufficio un po' con un panorama migliore, però parti nello stesso identico modo, non hai lo spazio per paure o altro, devi partire e sai che quello è il tuo lavoro, quella è la tua passione e quando ci sono queste due cose che legano perfettamente, non c'è null'altro che ti possa spaventare o impedire di vivere la giornata nel miglior modo possibile. Qual è il tuo percorso futuro? Dove ti porterà al mare? Il mio percorso futuro è già tutto programmato, anzi diciamo che questo Giro d'Italia mi ha permesso di alzare l'asticella se vogliamo, in qualche modo, perché ho scoperto, nonostante abbia tanti anni di vela sulle spalle, tanto mare, tanto lago e quant'altro, tanti campionati del mondo, campionati italiani e quant'altro, però ho capito invece in questo lungo viaggio, cinque mesi di mare da solo in barca, ti insegnano tantissime cose, quindi quel sogno nel cassetto che era la traversata atlantica in solitaria, in realtà sta quasi passando in secondo piano, cioè sarà una meta sicuramente, la prossima meta importante, mentre quella alla quale stiamo lavorando da un mese e mezzo circa è un po' più impegnativa, dove mi porterà in giro per il mondo per circa un anno, un anno e mezzo. Qui siamo a Genova, al Gaslini, ospedale sul mare, tanti bambini genovesi vengono qui, da tutta Italia anche, che cosa puoi dire a un bambino con una disabilità motoria che ama tanto il mare? Ah, dipende, perché se stiamo parlando di bambini posto intervento, quindi che ha un problema legato più che altro temporalmente per la riabilitazione, e quello che vi posso dire è di lavorare, di lavorare sodo, perché le cose migliorano e migliorano tantissimo, non è vero che lì è finito, probabilmente lì si rinasce una seconda volta, le cose andranno fatte in maniera leggermente diversa, ma nulla impedirà di poterle fare, quindi è soltanto da trovare l'escamotaggio, il metodo per superare qualunque cosa, che sia una semplice scalinata, che sia una salita o quant'altro, ci si trova i mezzi per poterlo fare, quindi non si deve mai smettere di lottare. Quelli che magari hanno già superato questo primo periodo, il mio consiglio migliore è di non abbattersi, di non mollare, anzi di uscire di casa, se non sono aiutati dai familiari o dalle persone che stanno intorno, è di lottare e ringhiare, tirare fuori i denti, i canini, azzannare la vita, perché va vissuta, devono poterla vivere, anche i genitori che spesso, mi duele dirlo, sono il problema maggiore, perché? Perché temono tante cose, in realtà le cose possono succedere anche in casa, quindi io in ospedale ho incontrato molte più persone che si sono fatte male assolutamente in casa che fuori, è ovvio che fuori magari con le moto o le auto, quando arriva il trauma è un trauma importante, però non è giusto tenere i bambini in casa, tenerli chiusi, è giusto invece farli uscire, fargli vivere la loro vita, ne hanno tutto il diritto, nonostante le problematiche, fargli tornare un po' di sorriso, perché questo gli aiuterà anche nella vita, con l'autostima sicuramente più cresciuta e anche con un bagaglio di esperienza di autonomia, sempre migliore, gli permetterà di vivere, avranno una qualità di vita sicuramente maggiore. Quindi a tutti quanti, ecco quello che dico sempre, non smettete mai di lottare e se pensate che le cose siano complicate, in realtà non lo sono, come dico sempre, volere è potere.